Cara, non hai preso aria tutto il giorno? Perché non esci un po' con Annetta prima di andare a dormire? Zia, se vuoi ti accompagno io. No, 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 no. Voglio mostrarti la mia biblioteca. Sì, hai ragione, Fabio. Penso che mi farà bene fare due passi. Hai visto? Già si sente meglio. Ha la sola idea di uscire. Hai notato una cosa? Che cosa? Hai notato che ogni donna ha un suo odore particolare. Io penso che ogni persona, maschio o femmina, ha un proprio odore. Già, ma le donne hanno odore di verdura. Strenberg. Strenberg ha detto che le donne sanno di sedano. Ma io aggiungerei qualche cosa. Che alcune sanno di sedano, altre di rosmarino, di ravanello, di carciofo, di cavolo. Perché? Perché la donna, fra tutti gli esseri viventi, è il più vicino alla specie vegetale. Tu non lo credi? No, no, vai avanti. Eh sì, io penso proprio che il passaggio dal regno animale a quello vegetale sia rappresentato dalla donna. La donna è l'anello di congiunzione. Ciao, Tino. Ciao, ingegnere. Vado a fare la mia passeggiatina igienica. Annetta! Hai sentito, Tino? Lieve aroma di sedano. Cosa? No, 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 niente, niente, cara. Ma cosa fai? Esci così? Sono coperta, non fa freddo. Ma, non so, mi sembra di aver visto una nebbiolina fuori, eh? Segno di umidità. Non so, cara, se è il caso di... No, direi proprio io di no. Hai tossito molto stanotte. Sì, un po'. No, no, cara, molto. Molto. Non mi sembra il caso di andare fuori a cercare malandi. Sì, hai ragione. Eh. Meglio restare a casa. Vi leggerò qualche cosa, magari.